ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video come potete vedere nuovo look mi sono un po dato una spuntati nei capelli perché ormai li avevo troppo lunghi poi adesso che comincia a fare caldo ovviamente ogni tanto una spuntata bisogna farla siamo qui pronti per parlare di quello che è successo nel gran premio degli stati uniti della moto gp un gran bel weekend secondo me il migliore della stagione finora è vero che ci sono stati soltanto tre gran premi però mi sono divertito veramente tanto c'è stata tantissima lotta tantissima bagarre ed è quello che dovrebbe essere la moto gp perché si veniva da un weekend non entusiasmante a porti mao dove nonostante fosse una moto gp non ci sono praticamente state tante lotto tanti sorpassi ecco volevo arrivare a quello i sorpassi qui ad austin invece ci siamo divertiti tantissimo dal primo all'ultimo giro ci sono stati duelli memorabili tanta emozione soprattutto il duello tra marquez e a costa mia particolarmente emozionato perché sembrava di rivedere di tornare a dieci anni fa quando c'era il più esperto ovvero valentino rossi contro il rookie mark marquez in questo caso il più esperto e marquez e il rookie ovviamente a costa quindi tanti tante belle battaglie e devo ammettere che mi sono divertito da tifoso neutrale della moto gp mi sono veramente divertito bellissimo weekend eccellente da dieci lode per top gun maverick vignales che si adesso viene chiamato batman però a me è sempre piaciuto il soprannome top gun un vignales re di vivo perché fino a qualche anno fa ricordo la sua crisi soprattutto con yamaha eppure io l'ho sempre considerato un ottimo talento fin da quando era la suzuki magari non un talento a livello di marquez di quartararo e di molti altri però un pilota molto solido che io ricordo di vignales non è mai praticamente caduto ha una costanza ottima soprattutto quando alla moto e in questo weekend l'aprile ha fatto un lavoro eccezionale soprattutto su una pista dove negli ultimi anni la ducati è sempre stata molto forte tralasciando la onda che con marquez praticamente vinceva sempre però questo è stato il primo vero weekend in cui ho visto una ducati in crisi dopo tanto tempo visto una ducati in crisi non tanto per il team ufficiale che a quanto pare sta attraversando un periodo no perché sono due weekend che li vedo davvero in difficoltà ma più che altro per vedere martin perché martin è sempre esplosivo soprattutto nelle sprint martin è sempre fortissimo però in questa gara nemmeno lui ha potuto far qualcosa contro l'aprilia e contro a costa che pur sempre un fenomeno perché a costa sta facendo un qualcosa di impressionante però weekend pulito perfetto da parte dell'aprilia poi ieri grandissima gara di vignales perché si è ritrovato nono dopo le prime curve e piano piano è tornato su dimostrando anche che l'aprilia non solo era molto forte ma sapeva gestire molto bene anche la gomma vero che molti hanno criticato la scelta di molti ovvero di partire con la soft al posteriore mentre vignale si accosta sono partiti con la media al posteriore e non a caso sono arrivati davanti però bisogna usare non si sa mai come andrà poi la gara come si dice sempre parlare dopo è troppo semplice quindi io apprezzo l'azzardo però alla fine hanno avuto la meglio la logica che era quello ovviamente di partire con la gomma media quindi poche parole un vignales perfetto forse weekend migliore della sua carriera l'ha detto lui stesso quindi niente altro da dire weekend davvero straordinario adesso dire che l'aprilia può diventare una minaccia per la ducati io aspetterei perché anche nel 2022 quando alesce spargaro vinse il gran piume d'argentina tutti andarono a dire adesso l'aprilia se la può giocare per il mondiale vinceranno ancora di più sul fatto che vinceranno non ho dubbi perché ormai sembra che l'aprilia abbia raggiunto la ducati anche se io considero ducati ancora la favorita però aspettiamo perché sia nel 2022 che nel 2023 alla fine l'aprilia ha vinto una gara a stagione quindi non è che avessero fatto chissà cosa però quest'anno secondo me la sensazione è differente sua costa poco da dire fenomeno il rookie maraviglia come è stato chiamato negli ultimi due anni anzi tre anni che ha corsi nel moto 3 in moto 2 un pilota che mi ricorda molto lorenzo perché anche lorenzo nel 2008 in termini di risultati fece qualcosa di simile ad a costa fece terzo il suo primo podio fece terzo la gara successiva fece secondo e addirittura la gara dopo ancora vinse quindi chissà che a costa non possa ripercorrere lo stesso tra l'altro lo stesso lorenzo ha detto che ai reds a costa sarebbe stato il favorito quindi chissà che non si avverì veramente questa profezia di orgel lorenzo molti direbbero un esordio alla mark marquez però non sono d'accordo perché marquez alla seconda gara aveva già vinto poi stiamo parlando di situazioni completamente differenti perché allora sia lorenzo che marquez avevano la moto migliore avevano avuto la fortuna di esordire subito sulla moto migliore che all'epoca nel 2008 era la yamaha nel 2013 era la honda mentre a costa sulla ktm che è praticamente terza forza l'ho detto anche nel video dopo i test che la ktm terza forza però solo con la costa perché per esempio bindere miller stanno facendo una fatica incredibile infatti io comincio a pensare che il team ufficiale potrebbe decidere di cambiare formazione a campionato in corso e mettere subito a costa sulla moto ufficiale perché è vero che molti dicono a costa allo stesso materiale del team ufficiale alla moto di quest'anno però ragazzi il team ufficiale che si fa umiliare così dal team satellite ci credo poco quindi io mi aspetto un cambio in corsa e se dovesse davvero accadere non sarebbe affatto una sorpresa ripeto weekend difficile li ho visti veramente in difficoltà in questo weekend i ducatisti poi ovviamente c'è stata la caduta di marquez che probabilmente se non fosse caduto sarebbe arrivato comodissimo sul podio o secondo o terzo sarebbe arrivato sul podio adesso torna a manifestarsi il fenomeno che di tutti che dicono marquez che adora la ghiaia marquez si stende sempre ragazzi bisogna dar tempo a marquez io non sono lo ammetto non sono un grande sostenitore di marquez per anni non l'ho sopportato però adesso sembra che stia davvero maturando è vero che ha 12 anni di carriera quindi è un po strano dirlo adesso che sta maturando però lo vedo molto più concreto lo vedo molto più pacato soprattutto nelle dichiarazioni quindi diamogli tempo è chiaro che questa era una grandissima occasione per lui perché austin era il suo impero quindi il fatto che sia caduto è davvero sorprendente però è così la prossima pista dove marquez secondo me sarà favorito sarà il sax ring anche se vedendo come guida costa secondo me marquez quest'anno avrà parecchio filo da torcere da questo rookie che sta veramente bruciando le tappe e facendo qualcosa di incredibile passando alla ducati ducati si ripeto inizio di stagione complicato si macchiato dalla vittoria in catar e apportimenti pecco bagnaia e apportiamo di martin però vedo una ducati molto più vulnerabile che abbia perso un po di tecnica non ci credo perché comunque sono migliorati tutti non solo l'aprile e la ktm ma anche la stessa ducati migliorata non so poi se è una questione di pista o se è stato semplicemente weekend storto però in questo weekend dopo tanto tempo visto veramente una ducati in crisi riguardo al team ufficiale non so cosa sta succedendo perché bagnaia ogni weekend sembra messo bene con la moto però poi arrivi alle gare dove non lo vedi mai al 100 per cento sia porti mao che ad austin l'ho visto veramente in difficoltà non tanto per una questione di feeling con la moto perché comunque vederlo guidare pecco va forte semplicemente sono stati gli altri che sono stati più forti che possa uscire da questa crisi io penso di sì perché anche gli anni scorsi e soprattutto inizio anno pecco faceva un po di fatica poi veniva fuori soprattutto nelle tappe europee e anche sulle piste che gli piacciono di più per esempio la prossima e red è una delle piste preferite di pecco immagino che possa in qualche modo riaccendersi che possa lottare per il mondiale non ho dubbi perché due volte campione del mondo quindi sono sicuro che risorgerà però se dovesse se dovesse accadere il contrario non ne sarei sorpreso perché quest'anno il livello della moto gp è pazzesco ci sono tantissimi piloti forti che possono giocarsela e quindi non ho dubbi che per pecco sarà molto più difficile e lo sarà anche per martin su questo non ho dubbi perché martini alcuni weekend sembra intoccabile però vi assicuro soprattutto quando parte dalla pole martin sembra intoccabile veramente in gara però vi assicuro che quest'anno sarà difficile per tutti anche per martin quindi da verificare su onda e yamaha non ho nulla da dire perché continuano la loro crisi nelle retrovie tra l'altro se non sbaglio la onda li ha persi tutti nella sprint sono caduti 3 su 4 e in gara mi sa che sono caduti tutti addirittura quindi un vero disastro per la onda su un circuito dove persino l'anno scorso avevano vinto quindi un qualcosa di impressionante su yamaha manco a dirlo poco da dire anche se mi dispiace molto ribadisco vedere quarta raro così in crisi la ktm ufficiale le sta prendendo da costa e ribadisco quello che ho detto prima secondo me ci sarà un cambio in corsa quest'anno e se dovesse succedere non ne sarei affatto sorpreso quindi un bellissimo weekend mi sono divertito tanti duelli e apro una piccolissima parentesi su bagnaia ieri io l'ho visto lottare veramente con tutte le sue forze soprattutto nei primi giri l'ho visto parecchio deciso addirittura un certo punto era secondo però poi andando avanti si vedeva che non ne aveva rispetto agli altri quindi sul fatto che pecco si stia impegnando non ho dubbi però semplicemente un periodo in cui gli altri sono nettamente più forti e sono sicuro che il team ufficiale nonostante il poio di bastianini cercherà in qualche modo di alzare di nuovo un po la sticella perché per ora sembrano un po in difficoltà sono passate solo tre gare quindi la stagione ancora lunga e ci sarà ancora parecchio da divertirsi la prossima gara sarà fra due settimane se non sbaglio a heretz non solo una delle piste preferite di bagnaia ma anche la mia quindi non vedo l'ora davvero di vedere cosa succederà quel weekend e spero di godercelo insieme io vi ringrazio per avermi seguito in questo video e ci rivediamo alla prossima ciao a presto